Ben tornato sul canale sono Paolo e benvenuti a tutti i trader a tutti gli aspiranti trader agli investitori o agli imprenditori digitali che vogliono ricevere un po' di valore o conoscenza o esperienza sono otto anni che sono coinvolto nel business online e voglio subito condividerti lo schermo per ricordarti brevemente come funziona il canale YouTube è diviso in quattro sezioni mindset corso gratuito che il video che sto facendo adesso lo posterò in questa sezione accademia che è dove mi formo e soprattutto lifestyle and speech per quanto riguarda un po' quello in cui credo quindi ti consiglio molto questa questa sezione è una delle più gettonate ora ti voglio far vedere come ho guadagnato diversi pips tramite questo setup di Audi USD andiamo subito a vederlo su TradingView se mi segui da un po' sai che io sono un trader trend follower ovvero che utilizzo una strategia trend following e diciamo che una delle mie dei miei concetti basilari è questo se vedi una M compri se vedi una W vendi ok dovrei avere anche sul nostro server privato ok questo questa immagine che ho creato apposta per la squadra questa immagine vedi che ogni volta che il mercato crea una W lui tende a scendere dopo una W il mercato crolla dopo una M il mercato sale ovviamente abbiamo delle figure di inversione come l'inverse head and shoulder quindi il test e spalle rovesciato però non complichiamo troppo questa lezione torniamo a grafica allora come ho guadagnato diversi pips vediamo quanti da qua sopra a qua sotto sono più di 100 pips su Audi USD andiamo a utilizzare la funzione replay che TradingView ci permette di utilizzare e vediamo subito di fare una breve analisi e di ragionare insieme ti invito a ragionare in modo logico e oggettivo insieme a me se pensi a questo concetto di rottura ho spiegato nella mia playlist se andiamo a vedere nel corso gratuito di Trading già come funziona la Dominance ho spiegato già qualcosa di Presection ti invito a riguardare qualche lezione che il mercato qua crea diverse rotture concorderai con me che questo è un pavimento che viene rotto e diventa tetto è vero di nuovo ancora cosa succede il mercato crea un pavimento quindi questa candela verde va a determinare un supporto che viene rotto e quindi poi non viene subito rispettato come tetto però il mercato tende a fare rotture ribassiste anche questa zona qua vedi questo minimo è stato rotto con questo movimento qua quindi il mio consiglio è quello di lavorare a coppie di time frame e questa è veramente una chicca che avrei voluto sapere i primi anni di trading daily abbinalo col 4 ore ok lavora a coppie di time frame come se fossero padre e figlio bene una volta determinato che sul daily siamo oggettivamente in un mercato ribassista scendiamo sul 4 ore cosa sta succedendo sul 4 ore spesso dico che il 4 ore perché questa è la vera difficoltà se sei un trader all'inizio o alle prime armi la vera difficoltà è saper dare la giusta importanza ai time frame è vero no che sono tantissimi e saltellare continuamente da un time frame all'altro ti porterà solo a confonderti o a trovare frustrazione ansia insomma devi essere ponderato a gestire le tue mozioni sapendo dare la giusta importanza ai time frame il 4 ore fidati è il più importante il 4 ore è il time frame che decreta il 4 ore è il time frame che decide dove va al mercato ecco perché io su 4 ore prendo tante decisioni e quello che vedo oggettivamente che sta succedendo è questo massimo minimo massimo palesemente inferiore minimo inferiore cosa probabilmente si creerà qua secondo te se il mercato sta facendo massimi minimi inferiori molto probabilmente farà un altro massimo inferiore è vero no un nostro lower high tecnicamente noi lo definiamo come lower high ovvero un massimo più basso rispetto al precedente e cosa sta per formarsi qua sono sicuro che riesci a vederla anche te adesso una W bene se sai come si usa Fibonacci o se non lo sai te lo riassumo brevemente è il primo strumento che a mio parere va utilizzato per sapere dove termina questo movimento della nostra quarta gamba io voglio sapere dove si conclude la quarta gamba della W Fibonacci lo vado a tracciare sulla terza gamba quindi da qua a qua sotto includendo le ombre per capire esattamente dove si conclude la gamba successiva ovvero la quarta ti do un piccolo segreto una volta che selezioni Fibonacci flagga e schiaccia controllo su mac schiaccia command per attivare il magnete il magnete è molto comodo perché ti si va ad ancorare letteralmente al punto esatto quindi così ok è preciso non stai sbagliando è impossibile sbagliare con il magnete poi cosa possiamo fare doppio clic sullo strumento di Fibonacci andare nella sezione coordinate e vedrai che hai quattro quadrati io ti consiglio di andare in quello in basso a destra di schiacciare la freccettina in su e di aumentare la latitudine perché con Fibonacci non conta la latitudine conta solo l'altitudine cosa intendo se lo zero arriva così non va bene siamo arrivati a basta troppo corti o così troppo corti se siamo arrivati invece così siamo arrivati lunghi non va bene deve essere esattamente sul punto finale dell'ombra ok da inizio a fine impulso quindi sulla terza gamba io ho tracciato Fibonacci e ultimamente sto facendo delle entrate solo su un livello particolare che è l'88 credimi c'è una motivazione ben precisa perché il mercato arriva così profondo all'88 e poi crolla non lo spiegherò in questa chiamata sono cose che spiego all'interno della community e dell'accademia in cui studio però noi sappiamo che possiamo posizionarci così con questa regola se vendo o compro all'88 lo stop loss lo andrò a posizionare sopra o sotto al cento per cento dipende se sto comprando o vendendo in questo caso sto vendendo quindi sopra sopra all'88 ok un gradino sempre sopra bene andiamo a vedere cosa succede il mercato arriva in zona sta lì un paio di ore o anzi otto ore perché ricorda sono quattro ore ogni singola candela quindi sono almeno otto ore che tu qua hai per vendere e sappiamo che c'è una candela molto interessante che è questa qua ti invito a riguardare sempre in questa sezione corso gratuito di trading un video che si chiama supply and demand molto interessante credimi lì spiego veramente alcune cose interessanti non tutte ok quindi già qua noi sappiamo che il mercato può crollare e scendere ok vedi questo è già un buon trade io ho preso take profit allo 0% io ti consiglio di mettere il take profit sempre allo 0% è più conservativo anche se poi in questo esempio avrei avrei fatto un sacco di soldi se non avessi messo il take profit però con i secoli ma non si può mai sapere no? questo è stato un trade 1 a quasi 6 anzi sì dai 1 a 6 togliamo questo è stato un trade dove ho rischiato 18 pips per prendermene 109 quindi un ottimo rischio rendimento ed è stato a favore di trend vedremo che ci sono altre strategie sempre più precise che ti permettono di di essere di essere sniper tipo ad esempio questa media mobile che ho fatto vedere poco fa oppure scendendo di time frame possiamo trovare tante altre cose tipo candele interessanti che ci danno che ci danno il punto il punto esatto perché questa candela che vado a segnare qui funziona semplice perché questa è la candela di cosiddetta supply ok quindi vuol dire offerta che il mercato va a rispettare quindi ci sono due caratteristiche che io utilizzo per identificare la candela esatta di inversione la candela di supply o di demand in caso di una compera ricorda supply è la candela verde in un movimento rossa quindi dove tu vai a cercare un sell la candela di demand invece la candela verde in un movimento la candela scusa rossa in un movimento verde quindi lì andrai a cercare un buy ok questo è un trade abbastanza intuitivo molto facile da prendere perché il mercato letteralmente con questo pattern ti sta parlando credimi che se riuscirai a prendere ritracciamenti così profondi sull'88 il rischio rendimento si alzerà perché perché vai a mettere 15 18 massimo 20 pips di stop loss e di solito su 4 ore il take profit sono sempre 80 o 100 pips ok questo voleva essere un video per spiegarti un po' come sto utilizzando questa strategia ormai da mesi da anni in accademia dove studio nei prossimi video vedremo altri setup altre cose intelligenti da utilizzare però ti invito intanto a riguardare magari qualche video qualche qualche percorso che ho fatto sia nella parte academy corso gratuito di trading network o mindset e lifestyle and speech per tutti magari gli aggiornamenti o dubbi o chiarimenti ci sentiamo sui social raggiungimi su instagram come paolo cavalleri molto semplice basta che scrivi paolo cavalleri e mi trovi dove possiamo scambiare opinioni pareri domande o interagire insieme ok queste sono informazioni di qualità credimi perché le informazioni cambiano le situazioni però le informazioni non sono informazioni di qualità finché non le applichi ecco perché dico sempre che non conta quanto sai conta quanto fai con ciò che sai la vera differenza è questa ok le informazioni sono come un giardino se non le coltivi non raccogli nulla quindi applica formati e continua a formarti perché se non ti formi ti fermi a presto ci vediamo nei prossimi video a presto